Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Sono tornata dalla spesa Lidl e quindi al posto di fare il video Svuota la spesa, voglio invece parlarvi dell'app della spesa Lidl che appunto dà dei gratte vinci per vincere qualcosa e oggi ha vinto la Coca-Cola da ridirare entro 7 giorni. Allora, l'app Lidl si chiama Lidl Plus, Lidl Plus, chiamatela come volete, e ci sono dei coupon da attivare, quindi non sono dei coupon che vengono messi in automatico passando la carta ma che vanno attivati, per esempio qua abbiamo i fagiolini al 31% di sconto, le mela al 28%, meno un euro sull'hamburger di bovino, meno il 31% sul petto di pollo e quindi questi sono i coupon personali. Poi troviamo invece le offerte Lidl Plus che dovrebbero essere appunto quelle per tutti, in generale che appunto ci sono i carciofini, sempre con gli sconti filetti, la scamorza, la pancetta, la pizza, le carote e qua appunto troviamo le offerte per tutti Lidl Plus dove quando andiamo nel negozio c'è proprio il tagliandino sulla cosa che è Lidl Plus. Poi abbiamo invito un amico a far parte di Lidl Plus, possiamo invitare gli amici, i volantini settimanali da consultare dove ci sono tutte le offerte un po' per tutti in realtà e anche le offerte viaggio, quindi troviamo appunto le varie mete turistiche con i prezzi e un po' il volantino insomma. e poi troviamo anche appunto il nostro e appunto la sezione coupon dove quando facciamo il grattevinci ci viene dato da grattare e poi si inserisce nelle nostre offerte, le offerte, i volantini e poi se andiamo in My Lidl possiamo fare dei sondaggi sulle nostre preferenze quindi in modo tale che Lidl sa anche che cosa ci interessa, se abbiamo animali, se non li abbiamo e possiamo anche trovare gli scontrini digitali per esempio della nostra spesa e appunto ci uscirà appunto anche la possibilità di avere un grattevinci da grattare per vincere qualche cosa. Quindi è utile saldata la Lidl perché ci sono ancora più sconti da poter sfruttare, penso che tutti ormai abbiano quest'app ma secondo me magari qualche persona non ci ha fatto troppo caso e quindi non l'ha scaricata oppure non sa che esiste l'app quindi io vi faccio questo video velocissimo, senza pretese, senza volerle insegnare niente a nessuno. Un bacione, ciao!